Per noi è un onore di essere qua. Parlo non solo da me ma per tutta la squadra. Portare qua un successo dopo 47 anni rappresenta una squadra con tanto sacrificio ma soprattutto la voglia di vincere. Questa Coppa ci ha portato tantissime emozioni e quindi credo che ognuno di noi si deve ringraziare non solo con tutta la gente che c'è qua ma soprattutto tutta la gente che sta guardando da casa. E quindi grazie mille. Ovviamente ci sono le Olimpiadi come abbiamo già sentito quest'anno sarà molto importante. Ognuno di noi proverà a fare il meglio anche lì. E poi come dico sempre il futuro nessuno lo possa controllare. Quindi speriamo che vada bene. Quando in queste settimane Yannick Sinner ha superato se stesso, ha superato la storia del tennis italiano compiendo un'impresa che noi italiani non avevamo mai fatto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie davvero. Grazie. Venite, venite. Solo i ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie.